Ciao a tutti, io sono Martin e questo è un nuovo tutorial del Creative Pro Show. Oggi vedremo come creare una caricatura a partire da una foto. Come al solito le fotografie di esempio che utilizzo sono state acquistate su Fotoglia e se volete del materiale di qualità vi consiglio di prenderle anche voi lì. Quindi questa è l'immagine di inizio che ho utilizzato per realizzare l'immagine di questo tutorial e questo ovviamente è il risultato. Quindi andiamo a vedere come si ottiene un'immagine del genere. Cancello quindi la mia immagine così partiamo da un'immagine di base. Una cosa importante in questo tipo di lavori è partire da un'immagine abbastanza grande perché più l'immagine è grande più dettaglio abbiamo a disposizione e durante eventuali ingrandimenti o rimpicciolimenti non perdiamo molta qualità. Come prima cosa andiamo nel menu immagine, duplica e duplichiamo questo file, quest'area di lavoro. Quindi vado su immagine, dimensione immagine e diminuisco fondamentalmente l'area di lavoro. Passo ad esempio a una larghezza di 1300 pixel. Ma facciamo un numero di tondi, facciamo 900-136. È assolutamente indifferente, fondamentalmente dipende dalla dimensione finale alla quale volete realizzare la vostra immagine. Ok, quindi a questo punto ho la copia dell'immagine, questo è il mio personaggio e cerchiamo di capire quali sono le prime cose che voglio fare. Allora, adesso prendo un pochino di appunti così vedete insieme a me meglio insomma quello che sto per andare a fare. Allora, quello che mi interessa è fare gli occhi un po' più grandi così li rendiamo un po' più comici, la bocca anche essa un po' più grande e poi magari creiamo un pochino, cambiamo la forma al viso, allunghiamo il mento qua e ci divertiamo un po'. Comunque, la prima cosa saranno gli occhi e la bocca, ok? Quindi cambiamo, togliamo questo livello qui. Ritorniamo nella nostra immagine iniziale che come vedete è molto più grande rispetto a questa immagine che al 100% si vede così, mentre questa al 100% ha un dettaglio incredibile. Questo ovviamente ci permette di fare una cosa molto interessante, ossia quella di copiare ad esempio questo occhio, quindi seleziono questa parte dell'occhio, premo il tasto CMD-C sul Mac o CTRL-C sul PC e lo incollo tranquillamente su questa immagine qua. Abbasso un pochino l'opacità in modo da poter vedere dove andare a piazzare quest'occhio, ad esempio in questa posizione qui. Lo ruoto un pochino giusto per adattarlo un po' meglio. Aumento di nuovo l'opacità, premo invio e posiziono definitivamente queste immagini. Adesso al layer 1 che chiamerò occhio 1, applico la maschera e a questo punto prenderò un pennello abbastanza grande con la durezza al minimo, tolgo qualsiasi opzione che ho qui in alto e abbasso il flusso ad esempio al 10%. Questo per avere maggiore controllo sulla maschera e quindi sulla quantità di nero che sto per inserire nella maschera e quindi per amalgamare il nostro occhio meglio alla scena. Chi non utilizza la tavoletta grafica probabilmente preferirà utilizzare l'opacità, è assolutamente indifferente. Per farvi capire quello che sto facendo nasconderò il livello di background ed è esattamente questo, sto semplicemente sfumando i bordi intorno all'occhio. Mi rendo conto che comunque probabilmente l'occhio dovrebbe essere in questa posizione qui quindi rimpicciolirò un pizzichetto ancora l'occhio. In questo modo verifico l'opacità per posizionarlo più o meno nella zona interessata e rimpicciolisco ancora un po'. Ed eccolo qua. E adesso andrò sempre sulla maschera, aggiusto la dimensione del pennello e andrò a rifinire alcuni elementi. Inverto il colore della maschera per recuperare un pochino di sopracciglia in questa parte. Vado sulla mia immagine iniziale, seleziono il secondo occhio, incollo, abbasso l'opacità come prima, controllo CMD-T per ridimensionare, di nuovo vedete sto ridimensionando senza alterare la forma originale dell'occhio. Questo lo potete fare tenendo premuto il tasto maiuscolo e trascinando uno dei bordi dell'immagine. Vi sarebbe sicuramente convenuto prima copiare entrambi gli occhi così da garantirvi la stessa dimensione, ma in questo caso, trattandosi di una caricatura, non mi interessa che i due occhi abbiano la dimensione esatta. Anzi, se ci sarà una leggera differenza, tanto meglio, l'effetto comico sarà sicuramente più interessante. Ecco, qui anche in questo caso sto uscendo un pochino fuori dalla testa, sicuramente con fluidifica avrei potuto allargarla un po', ma in questo caso non mi interessa. Facciamo così. Mi avvicino un pochino all'immagine e clicco sulla maschera e vado a rifinire di nuovo con il nero, sappiamo che il nero cancella, a rifinire alcune zone di quest'immagine. Ok, perfetto così. Quindi, vediamo com'era prima e dopo. E adesso posso semplicemente giocare un pochino con la posizione degli occhi per rendere la cosa un pochino più carina e interessante. Farò esattamente la stessa cosa anche per la bocca, quindi selezionerò la zona della bocca, copio, è sempre bene selezionare un'area un pochino più grande rispetto a quella che andrete poi a utilizzare realmente. E ridimensioniamo anche qui la bocca facendo attenzione a mantenere in qualche modo sempre le proporzioni. Ad esempio così. Che faccio? Applico la maschera, aumento l'opacità al massimo e faccio esattamente la stessa cosa che ho fatto prima. Aumento la dimensione del pennello, mantengo sempre la durezza al minimo, così ho un pennello bello sfumato. Se avessi infatti la durezza al massimo otterrei una linea molto più netta e a me invece interessa avere una linea molto più sfumata. E utilizzo il colore nero perché il colore nero sulla maschera mi permette di cancellare, quindi di nascondere. Adesso sto utilizzando la mia tavoletta grafica Wacom Intuos Pro per fare questo tipo di progetto, ma per fare l'esempio che vedete nella copertina ho utilizzato semplicemente un mouse. Quindi se non avete una tavoletta grafica non preoccupatevi. Ho spostato la bocca un po' più giù, inverto i colori e comincio a rifinire un pochino meglio quest'area. Ok, eccoci qua. Quindi questa adesso è la nuova bocca. Quindi prima e dopo. Prima e dopo. Adesso con questa bocca ad esempio la possiamo diminuire un pochino così in larghezza in modo da renderla un pochino più strettina. Posso ad esempio premere di nuovo i tasti Command T per far uscire fuori le maniglie della trasformazione e cliccando col tasto destro del mouse da qualche parte in mezzo accedo alle opzioni dello strumento trasformazione. Abbiamo questo altera warp. Warp ci permette di accedere a una sorta di fluidifica che ci aiuta a cambiare un pochino i connotati alle cose. Ok? Quindi ci possiamo divertire un pochino anche con questo. Una volta che ho ottenuto la forma che mi piace premo semplicemente il tasto invio e Photoshop assegna il comando. A questo punto se vogliamo rendere l'immagine ancora un po' più comica non ci resta che copiare tutto quello che abbiamo fatto fino ad adesso su un nuovo livello. Per farlo premiamo contemporaneamente i tasti Command Alt Maiuscolo E oppure sul PC Control Alt Maiuscolo E. Come vedete nei miei livelli ho ottenuto un nuovo livello che è la somma di tutto quello che ho fatto fino ad ora. A questo punto a questo livello posso andare sul filtro e applicare un bel filtro fluidifica. Il filtro fluidifica per chi non lo conosce ci permette di alterare i connotati di un'immagine. In genere basta utilizzare il primo pulsante ossia quello che mi permette di spostare alcune zone dell'immagine in questo modo qui agendo semplicemente sulla dimensione del pennello. quindi posso ad esempio divertirmi a spostare alcune zone dell'immagine così e magari allargarne altre in questo modo. Qui è proprio a vostra discrezione e alla vostra fantasia. Invece un altro strumento curioso è questo qui questo che allarga, lo strumento che allarga ci permette ad esempio di ingrandire, fare un paio di clic, un po' di pizzicotti giusto per allargare e la stessa cosa anche sugli occhi gli rendiamo gli occhi un pochino più grandi. Lo strumento che gli sta immediatamente sopra invece ci permette di ridurre le cose quindi possiamo magari fargli le orecchie un po' più piccine. A questo punto clicco su ok Photoshop ha applicato la nuova morfologia all'immagine e siamo pronti per passare a tutto il processo di post-produzione inteso come enfatizzazione delle ombre, delle luci molti di voi già sanno di che cosa parlerò quindi dodge and burn e ovviamente alla fine una bella botta di colore per rendere il tutto un po' più carino. Allora ho parlato del dodge and burn quindi creiamo una variante del dodge and burn che si fa così, si crea un nuovo livello vuoto si mette in luce soffusa o in sovrapponi a seconda della quantità di forza con cui volete applicare questo effetto impostiamo i colori in bianco e nero prendiamo un pennellino abbastanza grande che sia delle dimensioni più o meno delle dimensioni delle zone in luce e in ombra e cominciamo piano piano a colorare sulle zone in luce inverto il colore col tasto X e nelle zone in ombra giusto per enfatizzare un pochino di più alcune parti probabilmente mentre state guardando quello che sto facendo io ma anche quando lo farete voi probabilmente non noterete immediatamente il risultato dovete sempre fare prima e dopo cliccando sull'occhiettino del livello e qui vi accorgerete proprio della differenza di quello che state facendo in questo istante quindi cerchiamo fondamentalmente di dipingere le ombre nelle zone in ombra e di restituire un po' più di luce nelle zone in luce in questo modo creiamo un po' quella sensazione di immagine mezza illustrata mezza tridimensionale ok? quindi stiamo enfatizzando le forme di questo personaggio prima e dopo prima e dopo anche qui quindi enfatizzo un po' di chiari qua e un po' di ombre e un po' di ombre da quest'altra parte anche qua un po' sotto al collo allora vediamo quello che abbiamo fatto prima e dopo prima e dopo abbiamo aumentato un pochino di tridimensionalità adesso applicheremo un filtro un filtro della NIC Collection NIC Collection e si chiama ColorFX Pro 4 quindi per poterlo applicare devo creare di nuovo una copia di tutto quello che ho fatto fino a questo istante premerò quindi di nuovo i tasti Command Alt Maiuscolo E sul Mac o Control Alt Maiuscolo E sul PC andrò su filtro NIC Collection ColorFX Pro 4 aspetto che si apre il plugin e applicherò un filtro in particolare che si trova all'interno della suite ColorFX Pro 4 e si chiama Detail Extractor Detail Extractor mi permette fondamentalmente di enfatizzare i contrasti all'interno di un'immagine utilizzerò quindi questi tre cursori per decidere quanto contrasto voglio applicare all'interno dell'immagine quello che vi consiglio è di non esagerare troppo perché l'effetto poi potrebbe essere fin troppo evidente una volta che abbiamo impostato a puro piacere questi tasti clicchiamo su OK il plugin applicherà alla vostra immagine ovviamente quello che gli avete detto di fare e adesso vi consiglio di applicare una maschera invertire la maschera e con un pennellino bianco portare fuori l'effetto solo sul ragazzo e non sullo sfondo quindi cerchiamo di applicare questo effetto esclusivamente sul viso del ragazzo quindi prima e dopo prima e dopo come vedete è un leggero contrasto che ci aiuta a rendere più credibile questa tridimensionalità adesso andremo a schiarire gli occhi per schiarire gli occhi prendo una selezione una selezione ellittica seleziono gli occhi in questo modo copio e incollo ecco qui che ho incollato gli occhi su un nuovo livello che chiamerò appunto occhi il livello occhi lo metterò in metodo di fusione screen in italiano scolora ed ecco qui che vedete che gli occhi si sono accesi anche un po' troppo quindi applicherò la maschera al livello inverto con command i o control i il livello o scusate la maschera del livello e adesso con un pennellino bianco andrò a far uscire fuori l'effetto dello schiarimento solo sugli occhi a questo punto creerò un nuovo livello dove farò di nuovo il dodge and burn di prima dove lo metterò in overlay in sovrapponi prenderò il nero un pennellino molto delicato anche il flusso lo abbasso tanto e adesso semplicemente rifinirò questo occhio cercando di scurire le parti più scure vedete questa zona qui esterna proprio per dare contrasto tra lo schiarimento che ho fatto un attimo fa e la tridimensionalità dell'occhio stesso magari possiamo enfatizzare anche un pochino le ciglia ed ecco qui il prima e il dopo vedete l'occhio ha adesso una maggiore tridimensionalità se vi volete divertire un pochino possiamo fare di nuovo la copia di tutto quello che abbiamo fatto fino ad adesso andare nei filtri e entrare in camera raw quindi facciamo partire camera raw come un filtro di photoshop e possiamo giocare semplicemente un pochino con la chiarezza quindi aumentando ancora di più l'effetto tridimensionale e giocare magari un pochino con le ombre o con le luci per dare all'immagine un pochino più di toni anche qui applico la maschera inverto la maschera e rivelo le zone che mi interessano e alle quali voglio dare l'effetto appena applicato in camera raw quindi fondamentalmente avete capito che a me nella maggior parte dei casi piace applicare le maschere invertirle quindi per nascondere l'effetto applicato e poi rivelarlo piano piano solo lì dove mi interessa come uno degli ultimi passaggi passiamo alla nitidezza applichiamo quindi un pochino di contrasto anche in questo caso faccio la copia di tutto purtroppo per realizzare questo genere di immagini si utilizzano molto dei metodi distruttivi però alla fine può anche andare bene così vado su filtro contrasto maschera di contrasto e mi concentrerò ovviamente sugli occhi quindi abbassiamo il raggio e aumentiamo il raggio finché la nostra immagine non comincia a sgranare troppo e adesso aumentiamo la quantità fino a che ci piace come effetto e anche in questo caso che cosa vado a fare? bravi lo sapete già applico la maschera inverto la maschera e applico questo contrasto solo agli occhi ed ecco qui la nostra immagine ho voluto esagerare un pochino i vari effetti semplicemente per farvi rendere conto dell'effetto se fosse un'immagine professionale probabilmente ci sarei andato molto più piano cercando di mantenere anche ad esempio gli occhi un po' più naturali se volessi rifinire alcune cose ad esempio riportare maggiore nitidezza all'occhio andrei di nuovo qua sul ragazzo mi copierei il suo occhio proprio la parte del colore quindi dell'iride la incollerei qua e me la riporterei di nuovo qui e la ritratterei perché avrei comunque il massimo della pulizia quindi fondamentalmente dipende da voi quale grado di dettaglio volete avere a questo punto andrei magari semplicemente nei livelli di regolazione mi sceglierei una correzione selettiva del colore e nei neutrali magari gli darei una tonalità leggermente differente rispetto a quella che ha ma visto che comunque quella che ha non mi dispiace non andrei a cambiare più di tanto ok? quindi che cosa abbiamo fatto per realizzare questa immagine? ricapitoliamo un attimo sono partito da un'immagine più grande per poter copiare e incollare le singole parti e poi poterle manipolare qui quindi ho inserito la bocca più grande l'occhio più grande e l'altro occhio più grande ho usato le maschere per sfumare le zone di contorno in modo da poterle amalgamare al volo sull'immagine quindi ho usato il fluidifica per cambiare le forme all'immagine ho usato un metodo di dodge and burn per dare maggiore tridimensionalità all'immagine ho usato il filtro Nik Collection Color FX Pro per dare questa sorta di tridimensionalità ho acceso gli occhi per renderli più brillanti attraverso il metodo scolora ho dato un'altra botta di dodge and burn per dare la tridimensionalità all'occhio e renderlo più lucido quindi una maschera di contrasto e un'altra questa non mi ricordo che cosa era anche questa una sorta di maschera di contrasto sicuramente e una botta di colore alla fine quindi questo è il metodo più facile e più veloce per trasformare i vostri amici in caricature da Martin per oggi è tutto grazie per aver guardato questo tutorial iscrivetevi al canale facciamolo crescere alla grande e ci vediamo al prossimo tutorial da oggi cercherò di pubblicarne almeno uno a settimana se non di più più siete e più saremo motivati a pubblicarne grazie ancora e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti